Buongiorno a tutti, video un po' particolare perché oggi vi voglio parlare video richiesta, me l'ha chiesta una signora sotto un video, una ragazza, non lo so, non so l'età, e volevo parlarvi delle mie orchidee. Io premetto quelle che vedete di dietro, sopra la finestra, premetto che ho il pollice nero, proprio ho fatto morire anche l'aloe anni fa e vi racconto questa storiella perché non è un video mio se non vi racconto la storiella comica, praticamente quando sono andata a vivere da sola e si parla del 2007 mia mamma mi regalò delle viole, io amo le viole in tutte le loro declinazioni come profumo, colore, tipo di fiore eccetera eccetera e mia mamma mi regalò delle viole con tanto di vaso, con tanto di cose apposta da mettere soldi sul balcone e quindi io entusiasta le ho messe subito tutte e tre lungo i lati del balcone e mi ha detto mi raccomando bagnale spesso, bagnale sempre, bagnale tutti i giorni. Ovviamente io lavorando poi soprattutto in quegli anni lì lavoravo a Milano, quindi facevo Milano Biella e arrivavo la sera alle 8 a casa, andavo via alle 6 del mattino, per cui potete capire che arrivando a casa io andavo solo a farmi gran aperitivi, vivevo da sola, quindi gran aperitivi, oppure andavo a cena a casa loro, poi arrivavo a casa e tipo dormire, oppure la tv insomma uscivo ancora tanto, quindi capite che le viole, ciao! e un giorno mia mamma lavorava ancora, mia mamma agli ultimi anni ha lavorato di notte e ha lavorato con una persona mio vicino di casa, andavano, mia mamma prendeva il pullman per andare a lavoro e quindi quando saliva sul pullman scambiava sempre due chiacchiere con questo signore, signore che tra l'altro oltre a essere mio vicino di casa, oltre che ad essere mio vicino di casa, questo signore fu anche mio collega, lui lavora ancora dove lavoravo io una volta, lavora ancora lì e quindi insomma c'era un certo rapporto e mia mamma una sera entrando in pullman, una delle cose di cui hanno parlato fu, ha chiesto come vanno le viole di mia figlia? Bene, il vicino, che ringrazio, gli ha detto quali viole? Perché le mie viole erano ormai decedute, secche, abbandonate sul mio cuore adesso non lo farei mai, dico la verità, però allora proprio non ero proprio, avevo altri, totalmente altri interessi e altre mire, però ovviamente mi dispiacque anche perché dove io ho un, praticamente un un balcone a verso sud e quindi il sole batte praticamente tutto il giorno, sud, sud ovest batte tutto il giorno e fa un caldo da morire, quindi avrei dovuto bagnarle tutti i giorni e forse anche bagnandole tutti i giorni non so se li vivevano, quindi questo per raccontarvi il mio pollice verde, ma le orchidee non si sa perché me ne hanno regalate e mi vivono, cioè non so il perché, vi dico le poche cose che io faccio allora questa è l'ultima, questa me l'ha regalata Luca l'anno scorso, l'ha presa in un negozio di fiori che c'è qua sotto casa praticamente, lui va sempre lì perché lui, come un po' anche più di me gli piace supportare proprio i negoziati piccoli, le piccole realtà piuttosto che le grandi realtà quindi l'ha pagata un po' però vabbè è bellissima e adesso è tipo un paio di settimane che è fiorita anche tre e io adoro toccare i petali perché mi sembrano delle orecchie sapete che a me piace una cosa un po' particolare che anche dei bambini oppure le orecchie di Luca mi piace toccare le orecchie delle persone, delle persone a cui voglio bene adesso non mi prendete per pazza però a Luca spesso accarezzo le orecchie così come i bambini piccoli e anche quando ero piccola praticamente non mi addormentavo se non avevo una mano sul lobo delle orecchie l'altra vabbè avevo il dito in bocca perché mi sono addormentata col dito in bocca per un bel po' fino forse alla, credo all'elementare, alla prima elementare quindi oltre a coccolarle così io una volta ogni due o tre settimane non riesco tutte le settimane adesso cambio di quadratura quindi una volta ogni due o tre settimane pulisco le foglie straccio ovviamente solo acqua strizzato bene e tipo che spolvero le foglie, le pulisco, gli tolgo la polvere così adesso questa praticamente ha delle puntini, deve essere una malattia tra l'altro facciamo i video sulle orecchie che hanno le malattie e quindi molto delicatamente pulisco le foglie in questo modo qua vedete? in questo modo semplicemente questo le passo tutte ovviamente poi una cosa che appena ho dimenticato di dirvi che autunno, inverno e primavera le tengo sul davanzale della finestra sul termosifone, sul davanzale, luce diretta del sole e non succede niente quando inizia a fare più caldo e cioè in estate le porto sul secondo mobile che vi ho fatto vedere cioè lontano dalla finestra con una tenda sempre chiusa soprattutto durante il giorno che filtra la luce e le lascio lì, cioè in estate toglietele dalla luce diretta almeno io faccio così dalla luce diretta perché è eccessiva a me batte poi tutto il giorno la luce come vi ho detto il balcone è a nord-ovest quindi io per tante ore ho luce sul soggiorno sulla parte del divano, del living chiamiamolo come volete quindi importantissima la posizione altra cosa ogni settimana quando faccio le pulizie fra le tante cose gli do acqua una volta a settimana allora a volte prendo una caraffa e gli do un top d'acqua ad ognuna la caraffa è quella da adesso vi faccio la prendo la caraffa è questa qua da un litro e con un litro ne bagno ne bagno tre di questa grandezza qua vedete più o meno il palmo della mia mano più questa qua piccolina che deve sbocciare questa me l'ha regalata la Eli la cugina di Luca tra l'altro sta uscendo un io li chiamo un un pisellino qua vedete guardate sta crescendo quindi fra un po' fiorirà credo ci metterà di più quest'anno quindi riempio questa caraffa da un litro e la distribuisco fra le tre grandi e la piccolina poi se no se ho più tempo cosa faccio prendo la metto proprio sotto l'acqua così si vede sì apro il rubinetto proprio le bagno per bene le bagno per bene perderete qualche pietrolina ma non importa e poi tolgo comunque la scolo per bene poi e la lascio la lascio qua sul lavandino perché è un po' bagnata però un po' bagno anche un pochino le foglie quindi poi alla fine rimetto tutte quindi le passo tutte così gli do una bella lavata se riuscite a vedere aspettate che sposto ecco qua gli do una bella l'acqua la metto tiebida né mai fredda né mai calda proprio cerco di fare una cosa ambiente quindi le riempio per bene e poi le tiro su vedete e scolo l'acqua poi dopo metterò le pietroline e le distribuisco di nuovo però per farvi capire le bagno proprio bene bene e la rimetto nel vaso idem la terza questa non so se ci arriverà quest'anno tra l'altro non vedo potenziale stessa cosa per questa la bagno bene cioè proprio la immergo nell'acqua vedete è stata immersa e poi la faccio la rimetto nella sua postazione mio dio vado a rompere un bocciolo sono un po' nello stretto poi in più dovendo riprendere certe cose le stanno uscendo un po' così quindi vedete bene la piccolina stessa sorte la piccolina è ancora un po' umida dalla scorsa settimana quindi la bagno bene alla base e la rimetto nel suo bicchierino scolata ovviamente vedete scolo bene e la rimetto nel suo bicchierino queste stanno qua un paio d'ore tempo che sgocciolano le foglie e poi le rimetto a posto ogni tanto poi sapete cosa faccio le faccio la doccia le metto sotto la ogni tanto poi le metto proprio sotto la doccia nel box doccia e faccio una doccia leggera e le scolo stesso modo usando la pedana della doccia poi una volta ogni tanto quando quando poi ogni tanto cosa succede quando questi vengono secchi ah qua le forbici adesso mi faccio vedere bene ops è caduta oh un po' di palorchideina allora ogni tanto vedete ci sono dei rami vabbè ramo verde dove è sbocciato poi c'è questo altro ramo che in realtà è ancora vecchio allora quando questi rami questi rami qua diventano tutti secchi bisogna tagliarli tipo sotto il primo nodo mi hanno insegnato così a me l'ha insegnato appunto la fiorista qua sotto vedete qua c'è il primo nodo qua c'è il primo nodo come faccio a farvelo vedere qua c'è il primo nodo la tagliate proprio sotto questo questo nodo qua io faccio con una forbice normalissima e lo fate su tutti i rami secchi perché i rami secchi prendono rubano nutrimento e la pianta quindi bisogna toglierli lo so ci va un po' di coraggio a farlo però bisogna farlo io adesso qua è un po' che non lo facevo è un peccato perché comunque rovina poi la fioritura e anche questo questo qua per esempio che è verde questo qua che è verde aspetto che venga tutto secco per tagliarlo sotto il primo nodo che è questo qua questo qua questa foglia è venuta tutta puntinata non so bene il perché forse perché la metto vicino alla pianta grassa e patisce non lo so quindi stessa cosa io li avevo già tagliati di altri secchi però ogni tanto va fatto ad esempio questi facendo un casino questi qua sono vedete sono ancora verdi finché non sono secchi io non li taglio e quindi ecco questo è quanto quindi io penso di avervi detto tutto delle mie orchidee che adoro amo anzi se mi dovete fare un regalo un'orchidea e ne sono felice adoro i loro colori adoro la loro forma mi piacciono molto sono da anni ormai un bel po' di moda però a me piacciono proprio non mi stufano mai poi guardate che perfezione che sono cioè non lo so sono proprio veramente una cosa meravigliosa sembra una mamma che deve abbracciare un bambino non so a me ricorda questa cosa qua sono stupenda va bene io vi saluto e se avete altre domande fatemele sotto il video vi mando un grosso bacio ciao ciao ciao